Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento settimanale. Oggi vi parlo delle proprietà e degli usi dell'olio di argan. Quest'olio si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi dell'argania spinosa, una pianta originaria del Marocco. Definito anche oro del deserto in quanto raro e prezioso, l'olio di argan è un alleato per la bellezza di pelle e capelli. È un olio ricco di acidi grassi omega 3 e omega 6 che donano un effetto rigenerante. Contiene anche antiossidanti come vitamina A e vitamina E in grado di nutrire, proteggere, idratare e donare elasticità. L'olio di argan si assorbe facilmente, penetra in profondità, non unge la pelle. Basteranno due gocce per rendere la vostra pelle del viso morbida, vellutata con un effetto anti-age. In caso di secchezza, ottimo se applicato sulla pelle del corpo bagnata. In caso di labbra screpolate, applicatene una goccia. Le vostre labbra torneranno ad essere ben idratate. Ottimo anche per prevenire la formazione di smagliature. Lo si può usare da solo o insieme ad una stessa quantità di olio di mandorle dolci. Utile anche in caso di scottature, abrasioni, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti e antimicrobiche. L'olio di argan attenua il prurito in caso di dermatiti o psoriasi. Basterà applicare una o due gocce e massaggiare la zona interessata. I vostri capelli sono secchi o sfibrati? Applicate due o tre gocce dopo lo shampoo. Vedrete che ritorneranno ad essere setosi e lucenti. Mi raccomando però, usate solo olio di argan puro, come quello che trovate qui in farmacia. Ciao e alla prossima!